voglio approvare il portale e se poi respawniamo da un'altra parte ma quindi non c'è niente qua dietro sicuri no no non c'è niente sicuri che non respawniamo da qualche altra parte di strano mi sono cagato in mano non ho permesso sto quadro mi sono spaventato ma chi l'ha messo l'ho messo ora io perché non se l'ho droppato a terra è stupido mamma mia sei stupido ciao